Qualche ora fa, la neocoppia Giulio Reselio e Giulia D'Urso ha deciso di rispondere a qualche domanda fatta dai loro fan, iniziando una diretta sul profilo Instagram di Giulio. Sono state tantissime le domande arrivate durante la diretta, una di queste chiedeva proprio all'ex tronista quando e come avrebbe deciso di sposare Giulia. La risposta di Giulio però ha stupito tutti, lanciando una piccola frecciatina nei confronti della sua fidanzata. L'affermazione di Giulio infatti è stata Ho intenzione di sposarla, e sì, vedrete cosa le combino. Questa affermazione ha lasciato i fan della coppia senza parole, facendo così impazzire la chat di richieste, di date, ma soprattutto di voler vedere la proposta. E voi avreste immaginato che i due pensavano già al matrimonio? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie a tutti.